Di Maria Strada ha vinto la Coppa del Mondo. Il presidente federale è stato sospeso e l'allenatore ha esonerato. Ora la squadra nazionale femminile spagnola inizia da Tomé, era stato al centro di un altro caso di molestie. Con Vilda che le aveva toccato il seno nelle celebrazioni Montserrat Tomé Vázquez. 41 anni Montserrat è nato nell'anno della Coppa del Mondo Spagnola. Il Mundial vinto dall'Italia. Ma ovviamente non lo ricorda. Con i ragazzi. In attesa di trasformare i 13 anni che le hanno permesso di entrare in una squadra. El Romanon. Per questo. Ringrazia ancora i genitori. Gracias por ser ser el mejor te quiero HH8. Fulmi lunga FG Monze Tome 19 marzo 2023 dal Romanon. Un centrocampista ben condotto. Il debutto anche 20 anni con la maglietta Ovadis. Il passaggio al Levante un campionato vinto e a Barcellona prima di tornare a casa. Una carriera che è stata incoronata da quattro presenze nella squadra nazionale. Una volta che le scarpe sono appese al fatidico unghie. Il diploma in Actividad Fisica Deportiva e insegnando ai giovani. Ma. Soprattutto. Come allenatore. Incoronato dalla vittoria della Coppa Mondo Under 17 del 2022 e da due secondi posti ai campionati. Europei nella stessa categoria e dalla Coppa Mondo Under 20. Oggi Montserrat. Monze. Tome Vasquez è diventato il commissario tecnico della squadra nazionale. Spagnola. Una scelta completamente naturale dal 2018 è stato il vice ct Jorge Vilda. Quello che ha portato Las Rojas al titolo del campione mondo. Ha vinto tre settimane fa nella finale contro l'Inghilterra. Una scelta drammatica da quando arriva in un momento molto pesante nella storia del calcio spagnolo. Che non può nemmeno godere del titolo. Tome e la controversia sulle molestie. Ma Tome a sua volta era stato al centro di una controversia per molestie. Nonostante se stesso. anche se era rimasto in background rispetto allo scandalo di Rubiales. Quando Carmona a 29 ha segnato l'obiettivo che dimostrerà quindi per essere decisivi per la conquista. Della Coppa del Mondo. In effetti. Un video è sorto tra gli abbracci generali in cui Vilda. Il CT Silver. Si tocca il seno destro mentre rallegra. Il caos. Nella Spagna femminile. Non è certamente nato dall'euforia di un campionato mondiale vinto. Nella squadra nazionale il disagio contro Vilda e. Di conseguenza. Il presidente Rubiales è nata almeno l'anno scorso. Vilda era stata nominata al furore delle persone dopo la rimozione di Ignacio Quarti da chi era. Tecnico più che lungo il mandato di 27 anni. Ma con gli atteggiamenti del macchio e non poteva. Dal punto di vista delle controversie. Essere peggio o forse no. Nel 2022 in effetti. Una apparente esplose. Con 15 stelle della squadra nazionale scrisse una lettera contro situazioni che incidono sul nostro. Stato emotivo e personale. Sulla nostra performance. Sui risultati della squadra nazionale e potrebbero portare a spiacevoli injuries. Minacciando to renunce le convocazioni. Quindi. I ribelli chiesero la nomina di una donna. N.